Criticità negli ospedali di gran parte d'Italia, mentre il picco della terza ondata di covid non è stato ancora raggiunto e questa in sintesi la situazione dipinta dalla cabina di regia ministeriale, che ha deciso di allentare le restrizioni solo in Molise, che torna arancione. Non esisterà più l'oasi bianca in Sardegna, in quanto anche l'isola tornerà in fascia 2. In Abruzzo l'RT è appena sotto l'1 a 0,95 e così la nostra regione rimarrà in arancione anche la prossima settimana. Rimarranno comunque in vigore le ulteriori limitazioni imposte dall'ordinanza regionale. E mentre si decide che l'Abruzzo sarà ancora bicolore, nella nostra regione si registrano 417 nuovi casi di covid su 6.557 test, tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività complessivo del 6,3%. L'aumento maggiore del numero di contagi nel Chietino, dove si registrano 163 nuovi casi, seguono l'Aquilano con 110 casi, il Terramano con 74 casi e il Pescarese con 61 casi. 9 dei contagiati provengono da fuori regione. E con ulteriori 29 morti, il bilancio dei decessi sale a 1.972. 23 di quelli di oggi però fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle ASL. Considerando anche i 526 guariti, attualmente in Abruzzo vi sono 10.963 positivi accertati, 139 in meno rispetto a ieri. Di questi, 672 pazienti, più 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 88 in terapia intensiva, meno uno rispetto a ieri, ma con 7 nuovi ricoveri, mentre gli altri 10.203, meno 143 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.